Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi torniamo a parlare di Livarno, di questa catenella luminosa, ma prima di spacchettarla mandiamo la sigla. Se abbiamo la necessità di imbellire il nostro giardino, le nostre piante o qualsiasi altro angoletto, tra parentesi buio, dobbiamo ricorrere a qualcosa che ci faccia dell'illuminazione. Quest'illuminazione la possiamo fare grazie a un pannellino solare che quest'ultimo sarà collegato alla nostra catenella luminosa tramite 2,70 m di cavo grossomodo. Andiamo a vedere un attimo le caratteristiche che sono riportate sulla scatola, poi l'apriamo, io sinceramente già l'ho aperto sbirciato un pochettino, e poi una volta fatto questo le andiamo ad installare. Allora, ideale per il giardino, il balcone o il terrazzo. Illuminazione d'atmosfera con 10 lampadine in robusta plastica colorata, quello che già abbiamo anticipato. Con 50 durevoli LED a basso consumo energetico, perché si alimenteranno tramite la carica del nostro pannellino. Vediamo che cosa andrà a caricare anche questo nostro pannellino. Accenda automaticamente al calare del buio. Durata della luce fino a 8 ore, nel caso di una ricarica ottimale, quindi in una giornata di sole pieno. Spegnimento manuale, chiaramente al crepuscolo si accenderanno. Quando uscirà il sole, automaticamente loro smetteranno di funzionare. Pannello solare con picchetto rimovibile, protezione dagli spruzzi d'acqua IP44. Questo non significa che saranno water resistant o waterproof, però ragazzi, li mettiamo in giardino. L'abbiamo pagati quasi 8 euro, 7,99 euro nei cestoni della Lidl. Quindi, voglio dire, se si dovessero rompere, abbiamo buttato 8 euro. Perciò io spero e mi auguro che possano durare il più possibile. Andiamo a vedere incluse batterie nickel-medium sostituibile, che è una cosa veramente interessante e importante, da 600 mAh. E istruzioni per l'uso. Le lampadine ognuno avranno una lunghezza di quasi 6 cm, ovvero 5,8 cm. LED non sostituibili, quindi, se, ahimè, si dovessero rompere, non funzioneranno più le nostre lampadine. Per illuminare e decorare ambienti interni, non inserire mai una lampadina smontata della catena di luce in attacco E27. Perché? Perché la forma è di una vera e propria lampadina. Ovvero, ci sarà la lampadina in vetro, che questo vetro non sarà, sarà plastica, ma l'attacco è l'attacco Edison E27, quindi sembrerebbe una vera lampadina attaccata a un suo filo. Andiamo ad unboxare, gli diamo un'occhiata, cerchiamo di caricare la batteria, che chiaramente in questo stato adesso si trova totalmente a scarica, e aspettiamo il calare del buio per vedere che effetto fa, nel mio caso, sulla mia pianta. Quindi spacchettiamo e vediamo. Come già detto, è compromessa la sua apertura, perché già ho dato una sbirciata. Quindi adesso andiamo a vedere insieme, ragazzi, la cosa che troviamo nella parte superiore della confezione, è il pannellino solare. Adesso andremo a vedere anche il suo picchietto, perché ci dicono che c'è anche un picchietto dove si potrà andare ad inserire nel terreno. Chiaramente non possono mancare le istruzioni, manuale d'uso, garanzie e quant'altro, questo non ci interessa. Adesso andiamo a vedere un po'. Ok, questo per chi volesse lo può andare a montare, chiaramente vedete, con un innesto a baionetta, quindi è molto molto semplice, e lo possiamo andare ad innestare nel terreno. Se invece si volesse montare, diciamo, direttamente su una pianta, su un vaso, potremmo fare almeno del nostro picchietto, che il picchietto, volendo, ragazzi, si smonta anche, e si avrà la possibilità, magari, di mettere due viti, per magari andarlo a fissare su una parte, una superficie, diciamo, anche rigida. Ripeto, il picchietto adesso lo togliamo, e andiamo a vedere, ragazzi, quello che dicevamo dell'attacco Edison, attacco e 27. Ok, è questa qui, la filettatura, che ci raccomandano di non andare, chiaramente, ad inserire questa lampadina dentro un portalampada normale, altrimenti potremmo farci veramente del male. Quindi queste sono esclusivamente lampadine a LED. Vediamo al suo interno i cinque LED arrotorati in questo filo. Ragazzi, dovrebbero essere di vari colori, i LED dovrebbero essere chiaramente bianchi, ma vedete che le lampadine, ognuno ha un colore a sé, e quindi troviamo l'arancione, il viola, il verde, il celeste e il trasparente. Andiamo a vedere, collegandole, quello che può succedere. Step numero uno, avremo bisogno di una scala per arrampicarci sulla nostra pianta. Chiaramente dovremo ricordarci di mettere l'ultima lampadina, ovvero quella opposta al pannellino solare, dalla parte dove non ci sarà il sole. Quindi in questo momento io avrò il sole sulla mia destra, ovvero alla vostra sinistra, e mi preoccuperò di portare il pannellino proprio in quella direzione, in modo che avrò la certezza che tutto il giorno il mio pannellino si andrà a caricare di energia solare per appunto affrontare la notte e tenere accese, almeno per le otto ore che ci garantiscono le nostre lampade. Quindi utilizzerò i rami della mia pianta per andare a posizionare le prime lampadine. Ricordiamoci che avremo a disposizione solamente dieci lampadine. Cercherò di utilizzare il più rami possibile, ma ragazzi se non ci dovessero essere rami a disposizione potremmo avvalerci sempre di un piccolo pezzo di fil di ferro o magari le fascette quelle di plastica, le classiche fascette dell'elettricista. Dunque, come già anticipato prima durante il video, cercheremo sempre in qualsiasi caso di mettere il pannellino solare in un punto strategico per far sì che il sole colpisca il suo pannello durante tutto l'arco della giornata. E dunque ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Io spero di aver fatto come sempre cosa gradita a portare anche questo tipo di contenuto qui sul mio canale. Quindi non mi resta che lasciarti le solite raccomandazioni che sono quelle di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ricorda di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi contenuti qui sul canale. Se ti fa piacere, lascia un like a te totalmente gratuito a me aiuta a portare avanti tutta quanta la mia missione e non mi resta ulteriormente che ringraziarti per essere stato anche in questo video. Fino alla fine del video, ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie da capizzo. Ciao e grazie da capizzo. Ciao e grazie da capizzo.